Tanto grazie e buongiorno a tutti voi, grazie a Piero Angela di essere qui. Questa chiacchierata è divisa in due parti sostanzialmente. Nella prima parte vedremo come siamo arrivati al livello di salute attuale, non solo la nostra, siamo in un paese dove la speranza di vita è una delle più alte al mondo, ma come siamo arrivati allo stato di salute attuale di tutta l'umanità. Quindi ci faremo una prima idea di come la tecnologia ci ha aiutati a vivere meglio, a vivere di più. E questo è l'aspetto longevità. Ma poi c'è l'altra metà che è più importante ed è quella che Piero Angela tratterà poi più ampiamente ed è che cosa è successo in seguito a questo miglioramento della speranza di vita. Ci sono degli effetti indubbiamente positivi, tutti noi siamo contenti di vivere circa il doppio di quanto vivevano i nostri nonni e un terzo di più di quanto vivono i nostri genitori. Pensate che nell'ultimo anno la speranza di vita è aumentata di un mese. Se ogni anno guadagniamo un mese fate voi i conti di dove arriverete. Tutti voi che siete qui arriverete nel prossimo secolo, attraverserete completamente questo secolo e entrerete abbondantemente in quello successivo. Quindi questo è un aspetto indubbiamente positivo. Ci sono degli effetti collaterali naturalmente e considereremo anche questi effetti collaterali che sono effetti sulla società, per esempio il fatto che la società tenderà sempre più a essere fatta mediamente di persone più anziane e meno di giovani, questo è un problema grave, ma anche tutto il sistema sociale, il sistema delle pensioni per esempio, ma ancora più importante, il sistema stesso dell'assistenza sanitaria risentirà come effetto collaterale negativo di quell'effetto positivo che è l'allungamento della vita e ne risentirà il mondo del lavoro naturalmente, quel mondo del lavoro nel quale voi vi preparate a entrare. Ecco questo è un po' l'argomento che vorremmo affrontare e qui volevo farvi intanto vedere la densità della popolazione nel mondo, tanto perché ci rendiamo conto di quali sono i poli principali della densità di popolazione. Voi vedete innanzitutto c'è una zona scura, molto grande, che è l'India. L'India sta per superare la Cina come popolazione, quindi quello che noi studiamo a scuola, e cioè che la Cina è il paese più popolato al mondo, sta per non essere più vera, è questione di qualche anno e l'India supererà come popolazione la Cina. Poi vedete che c'è una zona densamente popolata che è l'Europa, soprattutto una certa Europa, e noi siamo inseriti in quella fetta del continente antico, e del vecchio continente, e poi vedete una macchia nera in Africa, che è la Nigeria. Ecco, quella è un'altra zona in cui c'è un'altissima densità di popolazione che aumenterà, e l'Africa che vedete attualmente poco popolata, che non è un'intuizione che tutti noi abbiamo, tutti noi pensiamo all'Africa come popolatissima, non è così relativamente ad altre aree, ma l'Africa raddoppierà la sua popolazione entro il 2055. Quindi voi vedete che quando voi sarete nel pieno della vostra attività professionale, avrete due Afriche, mentre adesso ce n'è una sola dal punto di vista della popolazione. Questo è un cambiamento straordinario, perché comporterà dei cambiamenti fortissimi di equilibri interni all'Africa, e nel pianeta intero con quelle che chiamiamo le migrazioni, che sono di vario tipo. Possono essere di tipo climatico, in paesi dove la qualità del clima non consente la sopravvivenza di grandi numeri di persone, non consente un'agricoltura efficiente, per esempio, ma potranno essere migrazioni di carattere invece politico, paesi più liberali, paesi meno liberali che si fronteggiano e quindi persone che vogliono essere libere, che vanno via da paesi che liberi non sono. Insomma c'è un'infinità di aspetti del flusso migratorio che vedremo per tutto il secolo, non dobbiamo pensare che le barche con i migranti siano un fenomeno di oggi, è il fenomeno del secolo, che attraverserà tutti questi anni. Ora io volevo farvi vedere, proprio per darvi un'idea di come vanno le cose, farvi vedere questo sito che potete, se volete chiamare poi, forse non adesso, se li avete spenti i telefonini è meglio, ma chiamatelo con internet, questo sito che è worldodometers.info, se voi chiamate questo sito vedete in tempo reale come scorrono i numeri del mondo, vedete come aumenta la popolazione, guardate, ognuno di quei numerini che scatta è un nuovo nato, la popolazione attuale del mondo è 7 miliardi, 763 milioni, 870 mila, 671, 72, 73, 74, 75, 76, 77 e così via. Poi potete vedere che questi dati scorrono anche su altre cifre però, parallele, il numero dei morti, molti di meno, quindi la popolazione è tuttora in aumento di un 50, 60, 70 milioni di persone l'anno, però è iniziata una frenata, questo ormai da parecchio tempo, nel mondo. In Italia non solo siamo in frenata, ma siamo quasi, siamo in retromarcia possiamo dire sostanzialmente, siamo in retromarcia. Sempre questo sito che non abbiamo il tempo di analizzare adesso, potete trovare la spesa per la sanità, vedrete che sale vertiginosamente, la spesa per la sanità nel mondo sale molto più rapidamente, fatte le proporzioni, della popolazione. E questo è un altro fattore con il quale tutti noi dovremo confrontarci nel futuro, voi di più, voi più a lungo, voi per tutto il secolo. E quindi questo è un altro aspetto. Ci sono anche delle cose che io vi consiglierei di guardare, guardate quante sigarette si fumano, c'è in tempo reale il numero delle sigarette che vengono fumate nel mondo e sotto c'è il numero di quanti sono morti di tumori e una buona parte di quei tumori sono tumori del polmone che contribuiscono all'aumento della spesa sanitaria. Quindi voi vedete che ognuno di questi fattori è interellacciato con gli altri, tutti questi fattori si parlano tra di loro e hanno delle retroazioni che sono molto complesse. La complessità è la caratteristica del mondo che state per affrontare. Allora avete visto scorrere un po' di numerini, andiamo avanti e vediamo queste grandi tappe della sanità. Sarò breve, adesso me la cavo con 5-6 minuti perché poi abbiamo molte cose da domandare a Piero Angela. Le grandi tappe che hanno migliorato la lunghezza della vita sono queste, i vaccini. Il primo vaccino, quello contro il vaiolo, è del 1796. Fu una conquista straordinaria. Pensate che all'epoca di vaiolo morivano 40.000 persone all'anno soltanto in Inghilterra. Edward Jenner, sperimentando questo vaccino, anche su di sé tra l'altro, fece, scusate, io ho un raffreddore ma non c'è ancora un vaccino per il raffreddore, Jenner risolse un grandissimo problema ma soprattutto aprì una strada, fece capire che noi abbiamo dentro di noi degli anticorpi che possono combattere le malattie infettive, senza che ancora si conoscesse l'esistenza del sistema immunitario. Quindi aprì veramente una strada importantissima per la medicina. E poco dopo, nell'Ottocento, voi sapete che fu lui Pasteur a scoprire il vaccino antirabbico. E questi sono i primi due, naturalmente non vi cito tutti gli altri, ma volevo darvi un'idea di come i vaccini abbiano cambiato la storia del mondo. Se pensate appunto a 40.000 morti soltanto in Inghilterra di vaiolo all'anno, vi rendete conto, moltiplicandolo su tutto il mondo, che cosa significa questo. Poi l'anestesia, l'anestesia, Piero, l'anestesia arriva nel 1842 nello studio di un dentista, non a caso, devo dire, e la prima anestesia fu l'etere, un gas esilarante, perché tra l'altro mette anche di allegria, mette allegria, chi respira questo gas incomincia a ridere, sembra che si diverta davvero molto. Poco dopo, 1848, arriva il cloroformio. Ecco, l'anestesia, Piero, ti sembra un'importante scoperta da mettere in questo elenco? Io ricordo che Luciano De Crescenzo, che forse voi conoscete anche se siete giovani, che è un grande umorismo, l'umorista oggi non c'è più, mi disse, ma tu sai Piero, quale è stata la più grande invenzione del mondo? Non è la ruota, non è l'elettricità, è l'anestesia. E' davvero, in fondo, tutti noi soffriamo poco, voi avrete ancora fatto operazioni perché siete giovani, ma la benedirete molto questa anestesia. Bello svegliarsi quando già tutti i problemi sono risolti, non sentire mentre vengono risolti. Poi è molto importante questa tappa che è 1895, in quel giorno, era credo dicembre, Röntgen, scopritore dei raggi X, fa questa radiografia che vedete, è la mano, non la mano di Piero Angela, che come vedete è attualmente sotto terapia, ma è la mano della moglie di Röntgen, e di fatti si riconosce quella macchia nera che è l'anello, l'anello che lui aveva regalato alla moglie. Beh, questa è la prima tappa del guardare dentro il corpo umano, oggi guardiamo dentro il corpo umano con una quantità enorme di tecnologie. Questa, dei raggi X, ovviamente, ma è vecchia, è banale. La TAC, che è un'evoluzione, accoppiando alla radiografia il computer, della radiografia classica, ma poi la tomografia a emissione di positroni, la cosiddetta PET in sigla, ma poi la risonanza magnetica, la risonanza magnetica ci permette, per esempio, di analizzare cosa succede nel cervello in tempo reale, in vivo, quindi anche in persone assolutamente sane, senza fare nulla di invasivo, possiamo capire che cosa succede nella nostra mente. Valortigara, che avete sentito prima, per esempio, è debitore, come tutti coloro che si occupano in qualche modo di neuroscienze, di questa tecnologia. Poi vi volevo far vedere Mexikov, perché è quello che scopre realmente, non ancora come lo conosciamo adesso, ma il sistema immunitario. Pensate che non erano possibili le trasfusioni, perché non si conoscevano i gruppi sanguigni, e non si può trasferire a caso da una persona all'altra del sangue, devono appartenere allo stesso gruppo sanguigno. E questo si è capito soltanto all'inizio del Novecento, quindi scoperta recente. State notando che c'è un'accelerazione in queste scoperte. Ecco, nel 28, Fleming scopre la penicilina, il primo antibiotico. Ah, non è il primo. Io qui, un po' per spirito, sia Piero Angela che io, siamo torinesi. Torinesi di solito non si vantano, ma questa volta io vorrei farvi vedere anche questo signore qui, che si chiama Bartolomeo Gosio. Bartolomeo Gosio scoprì lui il primo antibiotico e lo presentò all'Accademia di Medicina di Torino nel 1800, scusate, nel 1893, quindi molto prima di Fleming, ed era già un parente della penicilina, quell'antibiotico. vi dico questo perché da qualche settimana Piero Angela è membro onorario dell'Accademia di Medicina di Torino, tra l'altro. Vero? Sei membro dell'Accademia di Medicina. E lì fu presentato, in quella sede dove tu hai ricevuto il tuo diploma di socio, fu presentato il primo antibiotico, il primo al mondo. Solo che è una storia non molto conosciuta, questa, non molto conosciuta. Senti, io ti ringrazio anche delle cose gentili che prima tu hai detto di me. Tu hai finito il tuo... Quasi. Allora finisci. Ho finito. Vado. I trapianti, il primo trapianto di rene, 1954, non si conoscevano ancora degli strumenti clinici, medici, per fermare il rigetto. E quindi il primo trapianto di rene fu fatto tra gemelli, i omozigoti, in modo che avessero lo stesso sistema immunitario. L'unico modo allora per evitare il rigetto. Ma capite che se si possono fare trapianti solo tra gemelli, le cose non vanno tanto bene. E poi il trapianto... Questa è tutta cronaca che io ho vissuto, in parte già da giornalista. Il trapianto di cuore di Barnard, 1967, l'ho fatto già da giornalista. E poi il trapianto di fegato, STARS, il fondatore di tutta la chirurgia del fegato. Ma poi finalmente nel 71 viene scoperta la ciclosporina che permette di fermare il rigetto. A questo punto si può fare il trapianto tranquillamente su chiunque impedendo il rigetto anche se non si è fratelli omozigoti. E poi nel 53 la scoperta della doppia elica del DNA. E qui vedete i due scopritori Watson e Crick che fanno segno con quella bacchetta alla struttura della doppia elica del DNA. E poi la pecora dolly la clonazione che non fu importante in sé anzi non ha avuto poi delle applicazioni effettive come si diceva all'epoca nell'allevamento degli animali nella coltivazione di tessuti e così via. Ma è stata importante perché ha dimostrato per la prima volta che le cellule mature possono essere riprogrammate e fatte diventare di nuovo giovani delle cellule staminali. sostanzialmente si può prendere una cellula della pelle e farla regredire agli stati originari. E poi le cellule staminali sono un'altra tappa la prima linea di cellule umane è questa del 98 e poi l'editing genetico con la tecnologia che si chiama CRISPR adesso non chiedetemi che cos'è questa sigla perché probabilmente mi ingarbuglierei a dirla è una sigla che parte da parole in inglese che rappresentano come funziona questa tecnologia e non abbiamo il tempo di dirlo se non che è una tecnologia taglia e cuci della molecola del DNA si può intervenire sul DNA correggendo lettera per lettera gli eventuali errori allora questo ha chiuso il discorso sugli OGM non è più necessario fare OGM cioè mescolare tra loro specie diverse per ottenere il genoma che si desidera non è più necessario si va direttamente sul genoma da modificare e si tocca soltanto quello piccolissimo punto che deve essere corretto è come se una volta per avere un libro corretto si provasse a caso a mescolarne due e invece oggi si andasse con il bianchetto a togliere il carattere sbagliato riscrivendo sopra la lettera giusta per cui dove c'era scritto Toma si legge Roma ecco questo è quello che consente di fare la CRISPR e siamo nel 2015 e poi scusate siamo al 2015 e poi naturalmente l'intelligenza artificiale che sarà uno dei temi che affronterete proprio nel corso di questi incontri e allora a questo punto l'aspettativa di vita nel mondo è aumentata moltissimo e qui stiamo arrivando al dunque e sentiremo adesso Piero Angela su questi punti io vorrei farvi vedere com'è l'aspettativa di vita adesso nel mondo le zone verde e scuro sono quelle dove si vive di più quelle in mattone color mattone sono quelle dove si vive di meno e vi faccio vedere una cosa che vi piacerà questa è l'aspettativa di vita nelle regioni e province italiane qual è la provincia che ha l'aspettativa di vita maggiore in Italia? Questa! Questa! vedo che ci sono alcuni punti che vi stimolano e poi però l'età nel mondo com'è distribuita? Guardate che questo vi dovrebbe impressionare questa è l'età media in questi paesi subsahariani l'età media vedete è di 15 di 17 di 19 anni al massimo questa è la giovane Africa che sta venendo avanti quella che sta raddoppiando la popolazione quindi pensate che in Italia l'aspettativa di vita è talmente grande che l'età media è salita a 46 anni e su questo chiudo con l'ultima l'ultima immagine che è di ieri ho dovuto aggiornare questa cosa ieri pomeriggio perché abbiamo gli ultimissimi dati che riguardano l'Italia e siamo arrivati appunto a 45 anni virgola 7 di età media e abbiamo un saldo fortemente passivo fortemente passivo muoiono molte persone di più di quante nascano e anche tenendo conto dei flussi migratori siamo in passivo dal punto di vista della popolazione Piero io ti porrei qui la prima domanda cioè un paese come l'Italia per stare al nostro caso concreto che ha un ricambio di popolazione così debole al punto che ogni donna ha 1,9 figli quindi voi capite che se non c'è per ogni coppia almeno il mantenimento del numero di partenza la popolazione non può che diminuire e in poche generazioni si riduce a zero ecco io so che Piero Angel ha scritto un libro su questo punto perché non è soltanto una questione di avere la casa aglietata da tanti bambini avere l'allegria che pure ha la sua importanza avere l'allegria dei bambini che giocano in casa in cortile nelle strade no è che il paese vive sulle nuove generazioni che arrivano e le generazioni anziane che sono sempre più numerose possono essere sostenute economicamente con le pensioni e dal punto di vista sanitario con una sanità davvero uguale per tutti come è per fortuna in Italia come è importante che rimanga possono essere sostenute soltanto se ci sono giovani generazioni che producono ecco allora quindi Pierangelo come mai tu ti sei occupato di questo problema che oggi è attualissimo ma tanti anni fa tu l'avevi già individuato questo problema dell'avanzare dell'età media e della diminuzione della natalità stiamo parlando di tanti temi tu hai sollevato tantissimi problemi perché la tecnologia ha questa dualità da un lato è stata la bacchetta magica che ha permesso lo sviluppo la moltiplicazione dei panni dei pesci dall'altro poi ha creato e creerà in prospettiva questi problemi perché tra l'altro questo è appunto il senso di questi incontri che noi abbiamo perché come ha detto Piero Bianucci voi siete giovani ma questo secco ve lo beccate tutti voi con tutte le sue opportunità straordinarie ma anche con i rischi e con i problemi io vorrei a proposito di cosa significa la longevità parlare di un problema cioè di una questione che mi riguarda direttamente cioè mio padre pensate era nato nel 1875 era un contemporaneo di Garibaldi io porto sempre questo esempio Garibaldi è morto all'83 quando mio padre aveva già otto anni avrebbe potuto farsi correggere i compiti e beh lui ha visto l'esplosione della pompa atomica tu pensa a questa generazione in cui non c'era neanche l'elettrice neanche la bicicletta è stata inventata quattro dopo che lui nasceva mia madre era nata nel 1893 nel 1904 a Torino erano apparsi era l'anno in cui i fratelli Wright fecero i primi voli con questi aerei traballanti e a Torino anche c'era un certo De La Grange che faceva tentativi anche lui con lo suo piccolo modello e c'erano i manifesti che mia madre ricordava che allora aveva 11 anni che dicevano De La Grange volerà o non volerà e vintano la popolazione andare a un prato alla periferia a vedere mia madre ha visto lo sbarco sulla luna allora pensate cosa è successo in una generazione quello che voi conoscerete noi non lo possiamo assolutamente per vedere quello che la tecnologia vi porta abbiamo visto con queste nuove cose del digitale continuamente ogni giorno escono delle cose che ci sorprendono o che alla fine non ci sorprendono neanche più perché siamo abituati a miracoli continui io ho fatto una gradiografia l'altro giorno per questo braccio e di solito c'era una lastra che si metteva sotto poi veniva appesa quelle pareti luminose poi non c'è più niente e c'è una specie di piastra dove i raggi passano di lì si trasmette direttamente a un computer che è dietro non c'è più nessuna lastra e quindi arriva dentro un macchinario elettronico che può essere ingrandito mandato per telefonino insomma è tutto quindi può essere spedito sì ma questa roba succede ogni giorno diciamo oddio e il problema lo sappiamo è dell'occupazione o meglio della disoccupazione che è questo ne parliamo tra poco però vorrei rimanere nel tema che tu hai sollevato perché come dicevi io 12 anni fa ho scritto un libro che si intitolava perché dobbiamo fare più figli ebbene i 12 anni fa questa roba qui era io ricordo che un ecologo mi ha rimproverato ma come esplode la popolazione no esplode la popolazione in Africa e in Asia ma da noi è il contrario tra l'altro anche in Cina la Cina sta invecchiando rapidissimamente avrei dei problemi gravissimi per il fatto del figlio unico il mantenimento qui è un piccolo ragionamento in tutta la storia dell'umanità la linea della popolazione è rimasta piatta solo quando è entrata la tecnologia nei suoi vari aspetti ha cominciato a sannire e sannire verticalmente allora perché non è mica c'era una mano invisibile per così dire che la manteneva piatta ed era la mortalità perché si moriva tantissimo si moriva alla nascita morivano le madri alla nascita mia nonna è morta di parto e poi si moriva prima dei cinque anni si moriva lungo la vita quando io sono nato pensate la speranza di vita sono andato a vederlo sui dati storici dell'Istat nel 1928 io ho compiuto 91 anni e nel 1928 la speranza di vita per chi nasceva era 52 anni io mi sono fregato già 40 anni magari qualcuno così ma allora cosa vuol dire questo che sta cambiando tutto sta cambiando una struttura della società che è rimasta per secoli e millenie ma ancora recentemente in Italia nel 1900 cioè di fondo è abbastanza vicino le coppie producevano mediamente quattro figli nel 1930 tre figli nel 1960 due figli oggi uno ma per riprodursi una coppia deve fare 2,2 figli per mantenere stabile la popolazione se ne fai uno se voi prendete un pazzo di 52 carte e lo dimezzate ne avete 26 poi lo dimezzate alla terza generazione ne avete 13 e poi 6 o 7 allora vuol dire in 4-5 generazioni l'Italia scompare e questa è la previsione ma prima di scomparire invecchierà in modo drammatico io sono fortunato perché beh sì c'è un problemino c'è il bastone adesso fino a poco fa non ce l'avevo spero di togliere in futuro ma ci sono persone che a questa età hanno grandi problemi fisici e mentali se voi entrate in una casa di riposo cosiddetta o in un ospizio peggio ancora e guardate le persone che sono dentro vi viene un magone terribile perché sono persone tutte su sedia a rotelle che non si muovono che non riescono a vestirsi a mangiare da sole non capiscono più quello che tu dici hanno dimenticato non vivono più non riconoscono il puro il familiare a volte perché l'alzheimer colpisce purtroppo allora dici ma come vuoi vivere adesso si parla di vivere fino a 120 anni ma scherziamo ma poi che tipo di società sarà la gerontocrazia perché poi saranno elettori questi e voteranno sempre per sé cioè è un mondo col quale bisogna è per questo che mi sono stupito che quando è uscito questo libro che spiegava tutte queste cose tra l'altro le pensioni perché voi io sono in pensione dal 1985 da 25 anni 26 anni ma scherziamo ma quando mai una volta si andava in pensione si moriva qualche anno dopo 10 anni proprio per dire tanto c'è un piccolo particolare che tu non sei in pensione di fatto di fatto non sono in pensione ma cosa farei se fossi in pensione vado al giardinetti vado a vedere sai come sono quelli che guardano i lavori stradali che vuoi fare poi diventi qualcuno che se hai un minimo di consapevolezza ti senti un peso per la società semplicemente sono persone attive che hanno sempre lavorato ma è uno strazio io dico sempre vorrei arrivare a 200 anni ma in motocicletta con una bionda al sedio porteriale no 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 su sedia a rotelle con una badante insomma vedo anche delle persone di mia conoscenza che purtroppo sono ridotte malissimo e hanno consapevolezza di questo allora quindi c'è un fatto personale c'è un fatto sociale c'è un fatto politico perché purtroppo non c'è stata nessuna politica nel nostro paese che ha cercato di prevenire questa situazione che si sta creando a cominciare da quella delle pensioni perché non so se voi avete seguito questi dibattiti la Fornero Salvini il più quota 100 ma la sostanza è che questo segmento della scuola lavoro e pensione che una volta era equilibrato e che oggi scarica su quella segmento centrale del lavoro il peso e la spesa di tutto quello che c'è prima e dopo fa sì che queste persone qua siano dissanguate per sostenere persone in condizioni di attesa della morte che però consumano risorse e costi sanitari pensioni assistenza sociale senza una volta la pensione cos'era tu durante la fase del lavoro versi dei soldi in un salvadanaio e alla fine il salvadanaio prende dei soldi alcuni morivano prima alcuni dopo e il salvadanaio veniva ripartito un po' secondo una giustizia sociale poi il governo poteva anche intervenire però c'era un sostanziale equilibrio oggi è spaccata questa roba qui non c'è più perché quello che uno ha messo nel salvadanaio lo consuma nell'arco di qualche anno e poi continua a prendere i soldi di quelli che versano e allora i giovani che lavorano e versano questi soldi già sono spariti quando arriveranno apriranno non c'è più niente dentro dovranno trovare i soldi di quelli che sono dietro ma se quelli sono dietro sono sempre di meno e hanno problemi poi di crisi economiche eccetera è una situazione che sarà in modo un po' brutale ma credo non inesatto che alla fine un provvedimento tipo quota 100 che permette di andare sostanzialmente in prepensionamento rispetto all'aspettativa reale di vita di oggi è un furto delle generazioni anziane a quelle giovani cioè un furto che noi anziani facciamo a voi perché dobbiamo renderci conto che se noi viviamo di più per tutti quei motivi che sapevamo che abbiamo detto prima dobbiamo contribuire anche per un periodo più lungo e questo mi sembra talmente la palissiano è un fattore di giustizia intergenerazionale non possiamo scaricare questa più lunga pensione che sarà da pagare alle persone che hanno quando vanno in pensione 62 63 anni non possiamo scaricarlo su un numero di giovani tra l'altro ridotto per i motivi che diceva Piero Angela un numero ridotto che dovrà invece mantenere un numero più grande di persone anziane naturalmente ci sono delle persone che hanno dei tipi di lavori che non possono essere fatti usuranti pesanti ci vuole un po' di buon senso nelle cose però quello che succede anche è che in tutta questa situazione c'è il problema di quanto lo Stato può fare nell'altra direzione cioè di aumentare le nascite di fare in modo che ci sia un equilibrio guardate che in Europa non è così nel nord Europa noi abbiamo un rapporto oggi di 1,3 cioè 1,3 nascite per coppia sono grazie agli estracomunitari che fanno due volte più figli qui di quanti non fanno gli italiani ma mediamente gli italiani sono poco sopra l'1% in certe regioni sono sotto l'1% allora questo perché non avviene per esempio in Francia che è un paese vicino a noi in Francia hanno quasi un rapporto due a due perché c'è stata una politica che prevedendo questa distorsione ha favorito la famiglia anziché le persone anziane diciamo nell'equilibrio generale con una previgenza come beh primo asili nido ovunque in modo che la donna possa lavorare tra l'altro la donna lavora ci sono due redditi e i due redditi permettono di fare due figli e poi una serie di previdenze straordinarie te le cito una che tanto per dire se tu hai un reddito sei una coppia padre madre e due figli i genitori lavorano e hanno due figli piccoli normalmente cosa succede che tu paghi le tasse in funzione di quello che hai guadagnato in questo caso il reddito familiare viene diviso per quattro e allora le tasse crollano quasi non paghi tasse perché è come se le aliquote diventano bassissime questo per dire allora uno dice oh mi conviene fare un figlio a parte il fatto che da tanti sondaggi si sa che le coppie amano fare due figli figlio unico si sa poi sempre bene che abbia anche un fratello una sorellina quindi ha citato una mai piena di queste cose che da tanti anni già permettono alla Francia di mantenere questo equilibrio allora se mancano le persone tra l'altro noi abbiamo anche una fuga di giovani non è solo una fuga di cervelli la fuga di giovani che vanno a cercare lavoro altrove più di centomila anni mi sembra sia non so quanto dicono allora la tua popolazione diminuisce anche proprio nel punto critico non c'è una fuga di vecchi che vanno a fare c'è una fuga di giovani di gente che è in età lavorativa e anche dei più bravi perché sono poi quelli che riescono a lavorare a tornare a lavorare fuori e noi abbiamo di immigrati che nel giro di pochi anni sono diventati sei milioni oggi abbiamo sei milioni di immigrati in Italia per fortuna perché altrimenti il nostro sistema economico collaserebbe a cominciare da quello degli anziani sono credo centomila badanti che vengono da altri paesi figurati che si sostituiscono alla mancanza di un sistema sanitario che non potrebbe farlo e poi tanta gente che deve lavorare per le industrie hanno bisogno però tu in una società moderna anzi post tecnologica eccetera hai bisogno di persone che abbiano studiato che siano di qualità non di manodopera che va a raccogliere pomodori a mano a due euro l'ora e qui mi viene una domanda che è proprio legata al progetto costruire il futuro stiamo parlando dei giovani vi abbiamo parlato e in qualche modo vi chiediamo scusa di anziani finora ma vi parlavamo di anziani per poter arrivare al discorso che cosa potete fare voi giovani e quali saranno i lavori che potrete fare allora abbiamo capito una cosa che ci sarà carenza di geriatri questo mi sembra di capire che sarà così e va bene però non potete essere tutti geriatri e allora la domanda che farei a Piero Angela è come possono prepararsi alle professioni del futuro quali possono immaginare che siano le professioni del futuro guarda è sempre difficilissimo prevedere quello del futuro io l'ho visto nella mia professione sarei stato incapace di prevedere quello che è successo di dieci anni in dieci anni in un periodo in cui la velocità era inferiore a quella di oggi oggi quello che puoi fare è dire ovviamente ci sono tutte le professioni legate al digitale guardate che il digitale sta entrando dappertutto io me ne sono occupato anche per delle iniziative che tra l'altro abbiamo insieme organizzato a Torino e questo entra in tutte le attività umane ma anche gli avvocati hanno oggi bisogno di programmi di ricerca per esempio per le serettenze pregresse dei sistemi di ricerca che ti aiutano moltissimo nella professione e quindi c'è tutto una fascia di persone che si occupa di innovazione di programmazione ma anche di piccole cose cioè di inserire queste novità tecnologiche dentro attività antiche tradizionali anche se tu fai delle attività di salubi per dire ma la contabilità o la vendita la devi organizzare ricordo Benetton la sua grande provata è stata che attraverso un sistema di computer come ha fatto la Fiat del resto ne arrivavano le commesse già con le preferenze del pubblico tu che sei di Torino lo sai quando la Fiat faceva le automobili c'erano dei terreni pieni di auto e poi il cliente veniva a scegliere però c'era quello che lo voleva marrone l'altro c'era una rosa blu con il sedile per specchietti o li scontentavi o rimanevano adesso sono i robot che ricevono direttamente dal concezionario le cose stampano su misura piccola cosa ma cavo poi ha un effetto enorme sulla vendita Benetton ha avuto successo proprio perché è stato il primo iniziale con questo sistema ma questo vale per tantissime cose quindi gran parte delle professioni gli altri allora lì ci sono due scuole di pensiero per così dire diranno ci sarà una grande crisi disoccupazione la gente andrà a cercare lavoro fuori eccetera l'altra che dice ma no guardate che se questo sistema gira bene se queste persone riescono a fare bene questo lavoro creeranno ricchezza sufficienza per fare dei lavori diciamo quello che si chiama l'indotto o collaterale poi pensate per esempio a come è cambiata la società da contadina industriale a come oggi la società contadina era in Italia all'unità d'Italia 70-80% 70-80% erano nei campi a lavorare oggi 4% nell'industria adesso io non ho gli ultimi dati ma anche sta calando perché una società più industriale meno addette all'industria vado a cura dalla Fiat ci sono dei filmati bellissimi degli anni 20 cui si vedono maree di biciclette sembra essere in Cina che arrivano al mattino presto a lavorare e poi invece vedi tutte queste macchine in robot che fanno sono spariti gli operai non è che sono rimasti disoccupati tutti la ricchezza che realità ha permesso un'infinità di professioni a cominciare dalla nostra giornalisti iscrittori ma avvocati ce ne erano persino troppi e poi la scuola e qua andavano quattro gatti e oggi ci sono tra studenti e professori oltre 9 milioni di italiani nella scuola che consumano soltanto come anche noi che non producono cibo non producono oggetti non producono abiti trasporti niente consumano perché l'efficienza del sistema consente a fare anche la mancan il cartellonista il cantante il presentatore il giocatore il maestro di tennis tutta questa roba qua tutta gente filosofi tutta gente che non produce che consuma soltanto ma come per quanto riguarda la scuola produce idee produce conoscenza produce capacità montagna questo è allora se ti chiedi cos'è che può aiutarci e aiutare il giovane per il futuro essere capace di inserirsi in questo mondo che cambia ed è per questo che tra l'altro noi facciamo queste serie di conferenze per spiegare la tecnologia non ha mai avuto specialmente negli ultimi tempi buona stampa come si dice buona reputazione ritenuta responsabile di questo di questo e quell'altro ma attenzione perché guardate che senza tecnologia saremmo ancora tutti semi all'alfabede tra l'altro non va dimenticato che l'energia che è quella che consente qualunque cosa tu faccia dai trasporti al riscaldamento all'automazione non è mai stata una risorsa come si dice eh ma questi hanno il petrolio l'olio e l'altro si hanno la fortuna di avere il petrolio ma il petrolio è una tecnologia non è mai servito a niente a nessuno tantomeno per trarre l'energia e neanche il carbone e neanche il metano ci vuole una mediazione della tecnologia perché diventi un nucleare è una parte del motore del reattore eccetera quindi è l'invenzione che permette di creare risorse tu sai c'era un personaggio che io ho incontrato tanti anni fa più quasi 50 anni fa negli Stati Uniti pensate io queste cose qui me ne occupo da 50 anni perché sono 50 anni che si dicono ed ecco il vero problema come non vengono recepite i politici ma anche gli uomini di cultura a cominciare da capire che bisogna far più finire c'è un ritardo culturale terribile comunque dicevo questo personaggio era certo Herman Kahn aveva una società di era un futurologo diciamo un sociologo e aveva scritto tanti libri di lui contestava il fatto che la tecnologia che si creassero dei limiti alle risorse dopo che uscì il famoso libro i limiti dello sviluppo e diceva guardate che lo sviluppo non è come una pentola con la minestra dentro ogni volta che tirate fuori una mestolata si diminuisce il livello della minestra fin quando non c'è in realtà ogni volta che tirate fuori una mestolata aumenta il livello della minestra ed è vero perché ogni volta che tu crei innovazione usando risorse come la scuola la scuola usa tante risorse tu pensi anche un libro è un libro è un fatto bisogna tagliare gli alberi portarlo con il camion ma ci vogliono delle macchine per fare la pasta per fare le cose le macchine per stamparlo gli inchiostri i collanti i coloranti i camion dietro il libro c'è un consumo dietro una laurea c'è una montagna di carbone di metano di petrolio di cibo di tutto quello che è però tutta questa roba qui viene poi compensata dalla capacità di rendere di restituire le risorse che hai consumato attraverso la testa c'è vero quindi ogni volta che tu le consumi crei le condizioni sociali culturali eccetera per poter creare una ricchezza che compensa a meno che tutto questo lo diceva già questo signore tu abbia dei problemi come riscaldamento globale e allora lì il discorso non vale più però ecco per dire quello che manca veramente è la capacità di capire questi problemi come si intrecciano quali conseguenze hanno si arriva con molto ritardo ti ripeto tu lo sai anche tu sei stato molto sensibile nel tuo lavoro di giornalista lui ha lavorato alla stampa di Torino per 42 anni e ha creato il tutto scienze che è l'unico inserto di scienze che è giornalistico che è anche un inserto letterario perché poi tu sei informazione filosofo è bravissimo io faccio sempre una persona straordinaria lui chiede lui sa tutto di tutto e poi una persona per bene allora per questo che abbiamo d'accordo allora lì abbiamo un baratro culturale questo è il succo di tutto il discorso queste cose qui per affrontarle bisogna capirle bisogna vedere come si incontrano si incrociano come evolvono io avevo scritto nel 75 quanti anni fa 75 45 un libro che si intitolava la vasca d'archimele certo che era un libro molto spesso che mi ha richiesto tanto tempo mi ricordo di notte c'era la crisi del petrolio nel 73 che io mi mettevo una coperta di notte allora fumavo poi ho smesso in cui facevo questo andavo a dare tutti i dati per dire che ogni volta che si si immerge un corpo in un fluido c'è una spinta da bassa persona vuol dire che ogni volta che fate un'azione c'è una reazione lo dice anche il principio di termodinamica ma questo è diventato oggi molto più complesso non è solo un corpo in liquido sono tanti bilancini tutti collegati uno all'altro con cose sotterranee ed è una realtà complessa se non c'è una cultura che capisce questo è un grande guaio allora tu hai fatto come io ho fatto al famoso liceo d'Azeglio di Torino abbiamo in comune il liceo è la scuola elementare ecco molti di voi credo saranno liceo classico non lo so liceo d'Azeglio all'epoca ma credo ancora oggi tutto era rivolto al passato tutto c'era niente che riguardasse il futuro che riguardasse questi problemi ma non solo i problemi ma la mentalità la capacità di avere uno sguardo complesso su quello che sta avvenendo perché era storia quello che è successo storia della filosofia storia neanche filosofia in Francia i miei figli hanno studiato filosofia facendo dissertazioni qui si giuvano le opere l'etica la morale la storia dell'arte va bene tutto benissimo greco latino letteratura tutta roba del passato basta poi le materie scientifiche chimica fisica biologia matematica ma non la scienza non il metodo scientifico non la pervasività l'etica l'interazione la differenza tra scienza e tecnologia c'è una confusione oggi mentale si accusano gli scienziati delle cose c'è una ignoranza ma tra le persone colte che è veramente disarmante se poi queste cose le trasferisci in un parlamento o nella politica nell'economia cioè nella classe dirigente quella che deve prendere per tempo le misure giuste non scappare davanti a quello che ha il fuoco dietro ma spegne l'incendio prima che si propaghi e allora certo che è una cosa io ho avuto tante esperienze di persone molto colte che su questi temi invece non hanno alcuna preparazione io devo a questo punto ricordarmi anche dell'orologio e ricordarmi che c'è un mattone da assegnare e e là c'è già un baraccio alzato vieni vieni andiamo a farla a questo punto direttamente con un premiato ci raccontiamo un secondo perché non è che capita tutti i giorni vieni ci facciamo dare il microfono direttamente dalla regia a questo punto ah ecco qua sì grazie mille tuo nome Amedeo vieni vieni Amedeo un altro applauso tanto per cominciare una bella stretta di mano ai ai pieri vieni Amedeo dici un po' di dove sei cosa stai studiando sono della Val di Ledro e vengo dalla Val di Ledro oh che sia chiaro il studio al liceo Andrea Maffei perfetto la tua domanda qual è prima di meritarti il mattone che già per il coraggio te lo meriti chiaro allora io volevo chiedere riguardo all'energia se riusciremo a fare a meno dei combustibili fossili prima dell'ora esaurimento prima dell'ora esaurimento se riusciremo a a fare a meno dei combustibili fossili di utilizzare un'altra tipologia di combustibili se voi andrete su quel sito vedrete quanto carbone stiamo estraendo quanto petrolio e poi c'è un numero che diminuisce quanti giorni mancano alla fine di quella risorsa quanti giorni mancano alla fine del petrolio quanti giorni mancano alla fine del carbone del metano e così via quindi se ho capito bene la domanda inquadrala se non ho capito bene e riusciremo a disporre di energie pulite alternative in tempo prima che finiscano queste energie fossili che sono ancora preponderanti oggi è questo? questa è la domanda sì allora qui io ho scritto insieme a Lorenzo Pinna un libro proprio su questo problema anche qui nel futuro è sempre incerto perché ci sono valutazioni sulle riserve di petrolio di metano che dipendono un po' anche dal tipo di tecnologia di cui si dispone per esempio ci sono dei giacimenti che in passante sono stati utilizzati poco e che possono essere riutilizzati c'era la famosa questione dei scisti in Alaska che si diceva all'epoca dice per carità quella roba lì non si può utilizzare perché è un disastro ambientale ma gli americani l'hanno fatto e improvvisamente sono diventati indipendenti dal Medio Oriente perché questa era una cosa ecco quindi c'è un margine di incertezza che però è difficile da valutare il problema che tu poni è importantissimo cioè ci sono altre forme energetiche che possono intervenire allora noi sappiamo che il nucleare è stato bandito dall'Italia non in altri paesi il nostro vicino la Francia ha 56 centrali nucleari tra l'altro vicini anche anche se io non voglio adesso entrare nel problema pro o contro se si guardano i dati viene fuori che su 450 centrali nucleari che esistono nel mondo non c'è mai stato un incidente che abbia fatto danni neanche Three Mile Island adesso Fukushima sì ma non era un incidente alla centrale era uno lo tsunami che ha provo centinaia di migliaia di morti quindi si mettono in evidenza quelli del cernobil o cernoobil io ho stato lì ho fatto un documentario quello non era un incidente era un esperimento folle che hanno fatto degli scienziati idioti che poi sono stati anche condannati per fare una questione vedere fingendo al massimo il sistema si poteva ancora intervenire spingendo al massimo il sistema è saltato tutto anche se i tecnici locali dicevano basta basta saltavano tutti gli allarmi no no ancora quindi non poteva le centinaia nucleari si sono dimostrate molto sicure le scorie possono trovare delle collocazioni comunque è meglio non farlo benissimo non si fa ma tu sai che per esempio ci sono degli ecologi che sono passati al sostenere il nucleare proprio perché il nucleare non crea l'effetto serra e non crea il riscaldamento dell'atmosfera ha queste scorie che però si sono dimostrate sai paradossalmente quando si dice l'energia più pulita è quella idroelettrica perché lì non fai niente è la natura che tira su l'acqua con l'evaporazione riempie i bacini ci sono le cadute d'acqua e fa girare la ruota fa tutto lei la natura non c'è la ruota però in Italia due mila morti e vaiono allora ogni tecnologia ha delle incertezze detto questo allora l'idroelettrica non si può sviluppare più di tanto perché non si può dire anche qui nelle vostre regioni togliamo il turismo mettiamo le cadute d'acqua non credo che sia praticabile quella dei moti ondosi è molto scarsa lì l'energia termica lì dentro la terra c'è una ma è risultata molto difficile forse perché è una temperatura molto alta e ci sono delle questioni di tenuta dei tubi di corrosione eccetera solare e eolico arrivando qui in macchina a Verona io ho visto delle grandi pale sulla collina allora lì bisogna stare attenti quando si parla di queste cose perché quando si dice beh ma l'eolico anche lì è la natura che ci dà l'eolico tu pensa che le più grandi pale torde eoliche alte 100 metri eh 105 metri quindi 105 metri sono 35 piani un grattacino con aperture salari di 70-80 metri di più parte ebbene queste qui producono 5 megawatt bene e ma cosa vuol dire 5 megawatt insomma alla fin dei conti tenendo presente il fatto che non non c'è vento sempre e quindi il risultato della riproduzione è da dividerlo per i giorni eccetera eccetera viene fuori che per fare una centrale o comunque l'equivalente di una centrale da 1000 megawatt che oggi è quella occorrerebbero 5-600 pale torri aoliche di questo tipo 5-600 per fare una centrale standard solo una e dove le metti di dire che poi devono essere distanziate perché si fanno schermo l'un con l'altro non funziona più insomma anche l'eolico ha perché per esempio si dice eh ma in Danimarca eh Danimarca bisogna andare a vedere perché Danimarca funziona perché loro sono in una regione piena di vento che è quella del nord dell'Atlantico e hanno dei fondali bassi perché queste torri devono avere una base piantata dentro i fondali del mare in Italia noi abbiamo i fondali cioè abbiamo vento sul terreno ma abbiamo dei fondali troppo profondi ogni volta ci vuole una torre Eiffel e invece abbiamo dei fondali bassi nell'Adriatico dove c'è poco vento e si guardi la mappa dei venti poi vedi che non è che ce ne sia molto insomma Leo il solare il solare sì si possono fare molte cose ma non si fanno comunque anche il solare ha i suoi limiti quantitativi certamente man mano ci sono tanti studi si riusciranno a fare tante cose ma non si fanno abbastanza in tempo e c'è l'Agenzia Internazionale dell'Energia elettrica dell'Energia che dà i dati in proposito forse l'Agenzia dell'ONU che si trova a Vienna tu vedi che nel mondo globalmente perché teniamo presente che l'effetto Serra gira dappertutto non è una cosa locale non è il laghetto che tu puoi disinquinare e l'hai pulito lì non puoi disinquinare un pezzo di cielo dopo però gira lo vediamo in tutto il mondo quindi tu ti prendi gli inquinamenti degli altri e globalmente queste solare e oliche insieme fanno 4-5% in prospettiva dell'energia necessaria poi fanno apparire di più perché parlano dell'energia elettrica ma l'energia elettrica è solo una parte un terzo dell'energia che si consuma perché c'è quella del riscaldamento c'è quella dei trasporti eccetera insomma per farla breve anche lì si deve spingere quanto vuoi ma rimane il 90% metti anche l'80% e che sono carburanti fosili e si arriva al punto di dire ma ne abbiamo abbastanza con la popolazione che aumenta in queste proporzioni ecco allora c'è una speranza che è l'energia di fusione nucleare la fusione nucleare è qualcosa lo sapete di completamente diverso dalla fissione nucleare gli attuali reattori sono fissione nucleare per fare un esempio è come da un atomo è come immagino fosse un salvadanaio pieno di monetine lo sbatti per terra lo spacchi e escono tante monetine radioattive la fusione nucleare prendi due bonettine e le fondi insieme esce un po' di radiatività ma molto contenuta e facilmente gestibile e il carburante è illimitato perché la troina è l'acqua del mare e il deuterio che è una forma isotopo dell'idrogeno ecco ci stanno provando ci sono due tre progetti adesso quello che va avanti dove l'Europa è dentro molto attivamente che si chiama ITER che si trova in Francia a Cadarache ma è un progetto internazionale a cui partecipano europei Stati Uniti Giappone Russia quindi è veramente un progetto globale planetario e dovrebbe arrivare in qualche in una decina di anni a dei risultati definitivi sperimentalmente hanno diciamo dato l'affattibilità ma per fare questa roba devi portare la temperatura a delle altezze di milioni di gradi dove c'è nessun contenitore nessuna pentola che può contenere fonde tutto e allora sono dei dei plasmi cercano di contenerli con dei campi magnetici cioè c'è una parete che non è materiale fonderebbe se fosse di qualche materiale ma è un campo magnetico che tiene unite queste particelle caldissime tra di loro e allora però quanto tempo ci vorrà io da giovane cronista 1955 andai a la conferenza dell'atomo della pace a Ginevra dove intervene anche Eisenhower e si disse fra 10 20 anni avremo la fusione nucleare oggi siamo nel 2020 forse fra 20 30 40 stessa discorso mio ho fatto 4-5 pezzi annunciando l'arrivo della fusione nucleare purtroppo poi non è arrivato allora conclusione ho allungato un po' la risposta però meritava di farlo quello che possiamo fare fare anche perché poi si deve guadagnare il battone quello che possiamo fare è risparmiare energia ottimizzare cioè fare tutte quelle cose che si sa benissimo come fare ma che non si vogliono fare a cominciare dalla coibentazione delle case ci sono dimostrazioni che dimostrano degli edifici che tu riscaldi con un flammifero nel senso che con pochissima energia puoi tenere a caldo c'è lo scambio di calore con le pompe di calore con le altre cose c'è le tecnologie che saranno lavori per voi nei prossimi anni ma costa costa guardate come i terremoti terremoti io ricordo che da quando abbiamo iniziato qua nel 1980 abbiamo parlato con i tecnici i quali hanno detto ma se tu metti delle catene come si dice sulle pareti tu ti salvi cioè quello che succede nel terremoto perché c'è gente che muore se guardate il paesaggio dopo un terremoto vedete che le case a meno che sia catastrofico ma le case in cemento armato rimangono quelle che sono cadute sono vecchie case perché sono messi queste queste pareti quando c'è questa scossa cadono come un castello di carte ti arrivano in testa e ti ammazzo ma se tu metti delle catene cioè dei fermi agli angoli tu alla prima scossa sali e esci però costa e non si fa e poi allora ci lamentiamo poi quando le cose succedono giusto allora Amedeo quello che devi fare è rafforzare queste gambe perché abbiamo capito che sostituire l'auto almeno tanto per cominciare con un buon sano movimento fisico mettiamola così facciamo questo momento di premiazione a questo punto ringraziamo Amedeo che si è sbilanciato facciamo la consegna del mattone dammi pure il microfono ci vorrebbe una musica un po' pathos però facciamo così lo do al nostro Piero Angela che lo passa con affetto ovviamente ad Amedeo grazie 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 mille bene io non saprei come proseguire ecco il bastone lo scettro magico del grande Gandalf chiaramente che è arrivati a questo punto è giusto o no perché è una figura mitologica mitologica e io la domanda ce l'avrei perché come dire lui ha detto perché non bisogna arrivare a 110 anni ma se andiamo avanti così ci rivediamo fra 30 anni con questo piglio credo che sia d'accordo è vero allora ragazzi cominciate a lavorare che gli dobbiamo pagare la pensione ancora per qualche per qualche anno no qual è l'elisir della della giovinezza esiste avere due genitori e quattro nonne con buoni geni è questa la fibra che non è quella digitale una piccola osservazione io ero rimasto colpito quando ero a Parigi avevo vissuto nove anni c'era una rubrica di un giornale che era intitolato on a que l'âge de ses arter sia l'età delle proprie arterie perché le arterie sono pulite quello già ti assicura un 50% di salute e per sapere se sono in buone condizioni bisogna fare un piccolissimo esame qui alle carotidi una ecografia che ti dice se sono pulite oppure no cioè se il colesterolo è strozzato c'è gente che se ne rende conto c'è solo più un lume piccolissimo questo vuol dire che anche altrove non va bene quindi i medici stranamente non ti dicono mai di fare questo esame fatelo beh voi giovani non ce n'avete bisogno ma a partire da una certa età tipo 40 che io ne ho 40 ma facciamolo sto esame diciamo dai 60 va un eco doppio poi scusa l'alimentazione è importante 60 l'esercizio fisico è importante qua io non lo faccio quindi sono peccabiloso l'esercizio mentale sì però ecco quello mi sembra importante sì e poi devo dire ma questo solo perché non fumare io ho smesso di fumare a un certo punto sono puliti adesso era di moda una volta no? e anche l'alcol l'alcol fa male Piero Angelo è totalmente astemio da sempre io sono astemio ma non per tutto ogni volta che si va al ristorante si fa una brutta figura proprio perché non mi piace mi dà fattido l'alcol mi dà mal di stomaco allora insomma essere avrebbe un senso trasgredire trasgredire ma con consapevolezza ecco infatti qui c'è gente quindi attenzione quel che fuma 46 gradi se ne fuma una a fumare bisogna smettere perché non ne puoi fumare una ma si infatti quando li fumi una però ecco ci sono semplici regole di vita che tu puoi fare però naturalmente sono i geni prima Piero Pinocci cita una cosa molto interessante di cui si parla poco ma che nel futuro avrà una grande rilevanza poi solleverà problemi etici morali e questa nuova tecnologia CRISPS che consente di fare un montaggio i sarti del DNA come in moviola col tagliacucci per cui togli un genere una rimette un altro come cambiare un pezzo in una macchina che c'è una rodellina consumata e se succede questa roba qui e si comincia a poter fare si conosce bene il genoma non perfettamente ma sono studi che vanno avanti rapidamente e allora lì cambia tutto il volto dalla medicina perché non saranno cose semplicissime però diventa qualcosa di nuovo sempre però come toppe però però molto della salute dipende nel mangiare ecco mangiare anche lì iniziale è un po' non dico frugali come dicevo prima non abbuffarsi ecco io ogni tanto mi abbuffo però una volta ogni tanto e lo faccio sapendo che mi fa male quindi adesso usciamo di qua e andiamo a mangiarci uno stinco va bene a questo punto che cosa posso dire io vi ringrazio a nome di tutta questa bella tribù che ormai si può definire tribù perché è diventato qualcosa di esagerato questo costruire il futuro oggi abbiamo dato il primo mattone fisico è una chiara simbologia di questo costruire insieme un piccolo consiglio finale guardate la mia esperienza di lavoro di tanti anni ma anche quella di Piero Bianucci quando voi entrate poi nel mondo del lavoro non se fate l'impiegato se vi fate raccomandare ma non parliamo di ma se volesse avere diciamo riuscire nella vostra professione essere stimati ma anche andare avanti nelle carriere c'è una cosa che o qualunque direttore di qualunque azienda ha bisogno di gente in gamba ha bisogno di gente che sappia le cose che è seria che ha studiato bene ma soprattutto che ha idee che sa adattarsi che che si impegna a fare bene le cose questa è l'assicurazione cioè cercare l'eccellenza io devo dire che nel mio lavoro ho sempre cercato di fare questo con tanta fatica queste cose non sono mica talento talento è necessario certo ma Balzac diceva che il genio è lunga pazienza c'è molta fatica come diceva una parte di traspirazione una piccola parte di ispirazione è una grande parte di traspirazione allora per esempio anche nel vostro lavoro avere letto un libro in più è passato mezz'ora in più a fare una ricerca non essere soddisfatto di quello che hai fatto ma cercare di fare un po' meglio cioè che diventa un'abitudine una forma per arrivare a fare bene le cose ecco di questo c'è sempre bisogno ci sarà sempre bisogno non è una cosa del passato è una cosa più del futuro perché poi parli così bene con tutte queste cose complicate sarà mica facile e allora chi è bravo se la caverà bene allora sfrutto il bastone per rialzarmi chiedo allora a questi due signori di alzarsi in piedi per prendere questo meritatissimo applauso a Piero Angela e Piero Bianucci eccoci qua grazie infinite grazie di cuore alla prossima grazie 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 a tutti grazie a tutti Grazie a tutti